Salve a tutti. A giorni gli uffici scolastici regionali avvieranno le procedure per le convocazioni in via telematica per le nuove emissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021-2022 e la grandissima novità di quest'anno, come sappiamo, riguarda la possibilità di reclutamento a tempo indeterminato anche tramite la prima fascia delle GPS. In particolare la procedura si articolare in due fasi, una fase ordinaria che riguarda le emissioni in ruolo ordinarie da graduatorie di merito dei concorsi 2016-2018, lo straordinario 2020 e se si concluderà in tempo anche il concorso STEM e dalle GAE, e una procedura straordinaria di emissioni in ruolo prevista dal decreto sostegno IBIS che prevede il reclutamento tramite la prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Sappiamo bene che non per tutte le classi di concorso e non per tutte le province si arriverà ad attingere dalla prima fascia delle GPS per l'immissione in ruolo perché ciò dipende molto dalla consistenza, cioè da quanti candidati sono attualmente inclusi nelle varie graduatorie di merito dei concorsi e nelle graduatorie ad esaurimento per ciascuna provincia e classe di concorso. Fatto sta che sui posti residuati dopo le operazioni di emissioni in ruolo ordinarie il ministero attingerà dalla prima fascia delle GPS e dal momento i requisiti sono quelli stabiliti dal decreto legge sostegno IBIS, ovvero essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ed aver maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci anni, oltre l'anno in corso. In questi giorni sono in corso i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto legge sostegno IBIS e si sta tentando sia da parte di alcuni gruppi politici che su richiesta anche delle organizzazioni sindacali di estendere la platea dei possibili interessati dal reclutamento straordinario andando ad intervenire sul requisito di servizio richiesto dalla DL sostegno IBIS, quindi cercando di eliminarlo del tutto o quantomeno ridurlo a un anno solo di servizio e addirittura estendere ai docenti inseriti in seconda fascia la possibilità di essere immessi in ruolo tramite questa procedura straordinaria. Vedremo nei prossimi giorni, siamo ormai in dirittura d'arrivo per i tempi di conversione in legge del decreto, se saranno apportate le modifiche di cui si parla e quindi se sarà ampliata la platea dei possibili destinatari di assunzione a tempo indeterminato. Vi invito quindi a seguire il sito della tecnica della scuola e i canali social della tecnica per essere costantemente aggiornati. Arrivederci! Grazie!